Come nell'ordinaria rotazione di ogni ufficio pubblico e istituzionale, ecco arrivare anche il cambio di guardia alla prefettura di Ragusa. Il prefetto Giovanna Cagliosto lascia infatti l'ufficio del capo Lugibleo dopo che ieri il Consiglio dei Ministri ha disposto il suo trasferimento a Lucca e in un ampio movimento disposto a Roma a Ragusa è stata assegnata annunziato Vardè. Si tratta di un servitore dello Stato di 52 anni, calabrese di Vibo Valencia, il quale ha svolto il ruolo di commissario straordinario a Disernia, mentre in precedenza è stato commissario straordinario alle discariche a Napoli, dove è rimasto per un anno. Il nuovo prefetto di Ragusa è stato anche vice prefetta Varese, mentre non è stata ancora resa nota la data dell'avvicendamento alla prefettura, probabile che il cambio avverrà subito dopo le elezioni regionali di fine ottobre. Il nuovo prefetto succede come è nota a due donne, Francesca Gannizzo trasferita a Catania e Giovanna Cagliosto arrivata a Ragusa nell'agosto dell'anno scorso.